Terza serata della festa della birra artigianale qui a Barodissi Largo dei Ferrovieri adesso ci andremo a fare un ciretto un po' da tutta la gente, come vedete alle mie spalle, già tantissima e andremo a chiedere tra rossa, bionda e scura qual è la birra preferita da tutta la gente che qui sta bevendo allegramente seguiteci preferite la birra bionda, quella scura o quella rossa? io ho provato questa qui ambrata e mi sembra buona bionda, bionda quella bionda la bionda, la bionda tutte quante rossa, assolutamente rossa la bionda la bionda finita rossa la scura è la più bella la rossa la bionda la scura ho assaggiato quella rossa e non era male rossa noi abbiamo fatto il classico giro tra la folla come potete vedere che c'è qui al largo dei ferrovieri per la festa della birra artigianale abbiamo chiesto se preferire la bionda, la rossa o la scura dalle risposte mi sembra che qui piace bere in generale senza tante distinzioni di sorta quindi bene così mi raccomando state situizzate e seguiteci ciao 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 ciao